vi do do vi vi do do vi vi do do vi 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 do do vi 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 paolo vi do vi to vi do vi do vi parla siamo sempre a cerca di Vito siamo sempre a cerca di Vito noi ci siamo sacrificati sacrificati di dolore di dolore di dolore 25 in cuore su 24 si alzavamo un'ora prima un'ora prima Dico noi sacrificati a lui niente, è lui niente e è morto, è morto. Madonna, Madonna, Madonna. Adonora l'ho fatto là. Il rinculo. Il rinculo, sacro sacrificato a lui niente. Non lo so. A dolora. Matò. Madò! Madonna, cadè? Madonna, cadè? E non lo so che... è contagiato è lui niente hai capito? ti abbiamo fatto fare tutto quello che volete Vittor vorrei andare in discoteca e ci sei andato eh sì eh sì e c'eravamo pure noi sempre presenti, sempre presenti sempre, sempre, sempre volevi uscire con la fidanzata sempre presenti, sempre presenti votevi andare a giocare a pallone sempre presenti, sempre presenti eri libero di fare quello che volevi ma si che c'eravamo tutti noi tutte e due Madonna che dolore Madonna che dolore Madonna che dolore Adesso mi ha saluto Madonna che dolore ma tocca dolore è lui e noi l'abbiamo spronato abbiamo dovuto spronare di dolore spronare di dolore spronatissimo hai spremuto di dolore hai spremuto proprio gli abbiamo detto fai qualche cosa interesse di qualche cosa fa qualche cosa segui un obbio un obbio un obbio così un obbio così per esempio naviga su internet sono tre giorni che mi si vieni al computer tre giorni non è capito vai ma tu a me 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 a me